Eccoci arrivati alla terza puntata del nostro IAN6 Speed Training dedicati alla valutazione dei rischi. Stasera ci aspetta come argomento quelli che noi consideriamo essere la particella principale della nostra valutazione dei rischi, ovvero le schede di valutazione dei rischi. Le schede di valutazione dei rischi nascono con la necessità in qualche modo di standardizzare il contenuto principale del nostro DVR. Ecco ne approfitto di questo per parlarvi un po' di come sono nate le schede di cui parleremo questa sera. Quando ho iniziato a fare questo mestiere come dipendente di azienda di consulenza i DVR li compilavamo a mano rischio per rischio con la loro descrizione le misure adottate e quindi eventuali opportunità di miglioramento, un testo proprio libero. Questo sicuramente determinava un DVR estremamente personalizzato però imponeva anche tempi molto lunghi a prescindere poi dalla difficoltà dell'azienda, quindi anche un'azienda molto semplice comunque richiedeva parecchio tempo col rischio di non concentrarsi tanto sugli elementi importanti. Quindi ho provato a sviluppare nel corso degli anni un sistema che mi permettesse di non dover ogni volta ricominciare da capo in modo da poter ottimizzare le attività e quindi ad esempio concentrarmi per far bene una determinata valutazione che ne so di una macchina di un ambiente di lavoro sapendo che quel lavoro fatto bene sarebbe poi andato bene come base per tutta una serie di altre attività o altri documenti successivi. Da questo nasce questo sistema quindi ho incominciato a creare delle schede in Word monotematiche per ambienti di lavoro e attrezzature di lavoro. Dopodiché mi sono però reso conto che esistono dei rischi che non sono collegati né all'ambiente di lavoro né all'attrezzatura di lavoro ma sono legati a come una determinata attività viene fatta. Vi faccio un esempio. La pulizia dei locali ha dei rischi per chi la svolge che non sono legati né alle attrezzature che utilizza né all'ambiente di lavoro che all'interno del quale si svolge attività e di per sé neanche gli agenti chimici sono sufficienti a indicare tutti i rischi collegati perché abbiamo ad esempio i rischi ergonomici. Da questa considerazione sono nate poi le schede attività. Vediamo però cosa intendiamo per schede e cosa vuol dire caricare le schede all'interno di Amsafe. Prendiamo l'azienda ad esempio prova che abbiamo creato nella nostra prima serata e andiamo nella sezione schede. Qui andremo a caricare le schede collegate a questa sede di lavoro. Per schede quindi intendiamo ambienti di lavoro, attrezzature e attività. Come si fa? Clicchiamo su nuovo. Attraverso il tasto nuovo si apre una serie di selezioni che mi permettono di recepire le schede dal catalogo, dalle altre sedi aziendali, quindi magari delle schede che ho utilizzato per un cliente specifico che voglio recuperare. Posso mostrare o meno le schede fatte dagli altri utenti e che loro hanno messo a loro disposizione. Posso decidere se far comparire le schede che già ho inserito in quella sede, magari per fare un doppione e poi modificarlo, oppure no. E qui vedete un elenco di schede collegate in base alla ricerca. Cliccando su Importa quella scheda viene importata nell'azienda. Per importato si intende che viene creata una copia che diventa parte integrante di quella sede. Questo è un elemento importante perché significa che qualsiasi modifica voi apportiate alla scheda, dopo averla importata nella sede, non andrà a intaccare quella che è la scheda a catalogo, quindi rimarrà così com'era originariamente. Ma quella scheda importata in azienda potrete personalizzarla con le caratteristiche di quella sede, di quelle condizioni particolari. Prima di andare avanti però facciamo un passo indietro. Torniamo alla nostra scheda descrizione che abbiamo visto l'altra volta e vediamo il codice Ateco. Vedete che abbiamo scelto come codice Ateco il 2562. 2562 si riferisce a un'azienda metalmeccanica. Torniamo nelle nostre schede. Mettiamo nuovo e vediamo le schede che il sistema ci propone. Questo è la funzione di intelligenza artificiale che abbiamo realizzato. Il sistema dal codice Ateco individua quelle che sono le schede più utilizzate da tutti gli utenti in aziende con quello stesso codice Ateco. Quindi ad esempio dopo i classici attrezzature d'ufficio che tanto anche l'azienda metalmeccanica ha, troviamo ad esempio carico e scarico macchine, carrella elevatore, affilatrice, ambiente aere esterne circostanti, carica batteria, la fresa. Ecco, quindi il sistema in base al codice Ateco mi propone, mi dà dei consigli su delle schede che probabilisticamente potrei aver bisogno di utilizzare. Chiaramente la rilevanza è determinata da quanto gli altri utenti hanno usato quel codice Ateco e quante volte in quelle sedi con quel codice Ateco hanno usato quella scheda. Non fermatevi chiaramente alle rilevanze alte, scorrete e troverete anche quelle con rilevanza bassa ma che potrebbero comunque interessarvi. Giusto per simulazione proviamo adesso a utilizzare un altro codice Ateco completamente diverso, ovvero il 5510. Parliamo quindi di strutture ricettive, quindi un'attività completamente diversa. Se andiamo qui, a parte le solite schede attrezzature elettriche di ufficio che anche quelle hanno, troviamo ad esempio la movimentazione manuale dei carichi. Troviamo il rapporto con i clienti, l'ambiente di lavoro reception, le scale interne, la stampante laser, alcune schede anticontagio, gli aspirapolvere, le attività di ufficio, quindi vede carrello per le pulizie, la fotocopiatrice, trovate pulizia dei locali, trovate tutta una serie di schede che sono legate in questo caso a un'altra tipologia di attività, ovvero le attività ricettive. Vediamo come però questa rilevanza può variare e quindi andiamo a cercare ad esempio la cucina. Cerchiamo la cucina, ad esempio attività in cucina fuochi a gas, che vediamo avere una rilevanza bassa nelle aziende del mio tipo. Però se faccio in porta, il sistema incomincia ad analizzare le schede che io sto utilizzando e in base a quelle comincia a capire l'attività svolta. Quindi importiamo alcune attrezzature da cucina e facciamo, a questo punto invece che cerca, riproviamo da capo. A questo punto vedete che mi propone la sala ristorante, che prima era una bassissima rilevanza. A questo punto posso fare in porta. Pulizia dei locali, ci sta tutto. Movimentazione manuale e materiale, perché no? Rapporti con i clienti, la reception, le scale interne, stampante laser, l'affettatrice, l'area lavaggio stoviglie, il bar magari in questo caso non c'è, servizio ai tavoli, aspirapolvere. E rifacciamo una ricerca. E vediamo come le percentuali cominciano a crescere. Quindi più schede mettiamo, più il sistema è in grado di capire la tipologia di attività che stiamo analizzando e ci propone sempre di più quelle schede che ci possono interessare. In questo caso, avendo caricato tante schede da cucina, il sistema analizza tra il codice a teco e quello è un po' in dubbio, dice ma è un albergo o un ristorante? E quindi magari mettendo camere, sale e parti comuni possiamo avere una crescita della percentuale di rilevanza delle schede legate agli alberghi. Quindi il sistema è intelligente e analizza le schede caricate per comprendere quali sono le altre schede che ci possono servire. Fatto questo, avremo caricato le nostre schede. Cosa dovremo fare ora? Andando a analizzare i contenuti, chiaramente dovremo capire se già le conosciamo, altrimenti le dobbiamo visionare per la prima volta, io posso andare a fare delle personalizzazioni. Ad esempio in cucina posso andare a descrivere nel dettaglio dove si trova la cucina. Quindi ad esempio la piastrellatura utilizzata, se ci sono delle condizioni particolari che non ho in tutte le cucine, ma in quella che sto analizzando in questo caso particolare ce l'ho. Chiaramente ogni modifica renderà necessario fare un aggiornamento che voi potrete registrare e stessa cosa sui rischi. Ecco, quindi cominciamo a entrare nel cuore delle schede di valutazione dei rischi. La prima sezione importante è sicuramente quella dei rischi. All'interno qua trovate tutti i rischi correlati a quell'ambiente di lavoro, a quell'attrezzatura o a quell'attività. Anche in questo caso potrete personalizzare ciò che è stato scritto qua per renderlo più attinente alla vostra realtà specifica. Se è una realtà estremamente comune, quindi che non ha adottato particolari misure, probabilmente quello che trovate all'interno di questi campi potrebbe essere sufficiente. Se questa è una struttura, un'azienda particolarmente strutturata potrebbe aver adottato delle procedure più specifiche e potreste aver piacere di andarle a inserire qua. Chiaramente delle misure adottate maggiori determineranno un rischio residuo inferiore. Ma analizziamo bene i campi. Tipologia di rischio. Qui troverete sicurezza, quindi potrete selezionare tra sicurezza, sicurezza e salute e salute. Per ora lasciate perdere gli altri elementi che ci riguardano altre situazioni. Un rischio per la sicurezza è uno di quei rischi che può dar luogo a un infortunio. La caratteristica di questi rischi è che all'interno della mansione, quando andremo a quantificare, a stimare l'indice di rischio, il classico P per D, sarà determinato semplicemente dalla probabilità e dal danno indicati qua. Quando invece si tratta di un rischio per la salute, quindi un rischio che si possa generare una malattia professionale, entra in gioco un parametro essenziale, che è l'esposizione. In questo caso, quindi, il rischio calcolato della mansione sarà dato dalla probabilità e dal danno moltiplicato per l'esposizione. L'esposizione è un parametro che andremo a inserire quando vedremo le mansioni, quindi in questo caso ancora non ci interessa. Però sappiate che se indicate qui sicurezza, il sistema quando farà il calcolo non terrà conto dell'esposizione. Se invece è un rischio per la salute, terrà conto dell'esposizione, quindi il rischio verrà inferiore al semplice P per D. Descrizione rappresenta quello spazio dove possiamo dare evidenza del perché è presente quel pericolo, da dove deriva quel pericolo, per far comprendere che non è un pericolo che può esserci dovunque, ma in un particolare contesto, in particolari situazioni. Le misure adottate sono, come previsto dall'articolo 28, sono indicazioni di quelle che sono le misure già ora adottate per evitare quello specifico rischio. A fronte di queste misure il rischio potrebbe essere eliminato quando siamo fortunati o potrebbe essere solo ridotto. A questo punto, se è solo ridotto, abbiamo dei rischi residui. Il rischio residuo potrebbe essere anche solo quel comportamento umano che potrebbe dar luogo a una rimozione di una protezione, oppure a un evento nonostante le misure adottate. Perché è importante il rischio residuo? Perché è dal rischio residuo che possiamo determinare il programma di miglioramento, perché se abbiamo identificato dove rimane la presenza del rischio, possiamo anche comprendere quali misure possono impattare su quel rischio stesso e quindi determinare quelli che sono i prossimi passi da mettere in campo. Vediamo adesso però anche una nuova funzionalità che abbiamo inserito. Quindi ipotizziamo di aver visto che i rischi indicati qui vanno bene ma che chi ha fatto quella scheda oppure in questo caso specifico dei rischi aggiuntivi. In questo caso clicchiamo su nuovo e qui troveremo un catalogo facendo cerca. Troviamo un catalogo che abbiamo realizzato e che potete utilizzare per inserire, da inserire dei rischi aggiuntivi oppure per creare una scheda nuova. Quindi io posso fare importa. A questo punto mi importa quel rischio e una sorta di descrizione, misure adottate, rischi residui. Chiaramente qui dovrete facilmente metterci mano perché è un catalogo che vale per qualsiasi cosa, quindi è una mera traccia che poi uno andrà a personalizzare e una volta personalizzato nel modo opportuno, cliccando salva diventerà parte della scheda e a quel punto avrete integrato la scheda con quelle che sono le vostre necessità specifiche. Dopodiché passiamo ai dispositivi di protezione individuale. Qui il sistema vi proporrà dei dpi a catalogo se già sono stati previsti nella scheda. Se volete aggiungere, se volete eliminarli sarà sufficiente cliccare eliminarli oppure facendo su nuovo potrete andare a decidere di quale dispositivo si tratta aggiungere la descrizione che credete e fare salva e a quel punto aggiungerà anche quel dpi a questa scheda. Prescrizioni. Questo è una parte estremamente importante. Ogni scheda di valutazione dei rischi che troverete a catalogo contiene anche le prescrizioni. Di per sé questo non è destinato alla valutazione dei rischi ma è destinato a un altro documento, quello che chiamiamo il fascicolo informativo dei lavoratori, che è un documento che unsafe genera per mansione all'interno del quale vengono trasferite tutte quelle informazioni utili in base all'articolo 36. Perché questo? Perché una volta definite le schede e come vedremo la prossima volta collegate alle mansioni, il sistema potrà creare il fascicolo della mansione X in quanto saprà che chi svolge quella mansione accede a quegli ambienti di lavoro, usa quelle attrezzature di lavoro, fa quelle attività alle quali sono collegate queste prescrizioni. Quindi l'insieme di tutte queste prescrizioni, che sono una sorta di procedura, l'insieme va a comporre il fascicolo informativo. Queste schede quindi verranno consegnate sotto forma di fascicolo unico, composto anche da una parte informativa generale, sulle norme, le figure aziendali. Il sistema, avendo registrato chi è il datore di lavoro, chi è l'RSPP, l'RLS, il medico competente, gli incaricati, sarà in grado di compilare automaticamente anche quella parte. Una parte dedicata ai rischi, chiamiamoli trasversali, ovvero rischio di incendio, il rumore, le vibrazioni e anche in questo caso il sistema, conoscendo il risultato di quelle valutazioni, potrà informare direttamente dentro il fascicolo qual è il livello di quel rischio di quella mansione. Quindi create queste schede, questo sistema creerà il fascicolo informativo, genero il fascicolo informativo, consegno il fascicolo informativo, mi faccio mettere una firma e a quel punto potrò certificare il trasferimento delle informazioni. Vi faccio vedere ad esempio un'altra scheda che può essere ad esempio l'affettatrice elettrica dove qui troviamo indicazioni generali che sono delle prescrizioni che non riguardano una specifica fase di lavoro ma in generale qualsiasi momento di utilizzo attrezzatura. Cosa fare prima di iniziare a utilizzare quell'attrezzatura? Cosa fare mentre la si usa? Come fare la pulizia? Nel caso affettatrice è un punto effettivamente che potrebbe essere un po' critico. Cosa fare durante le operazioni? E quindi avere una visione completa di quelle che sono le fasi lavorative e come comportarsi. Ad esempio cosa fare dopo l'operazione? Arrestare la macchina e attendere l'arresto completo della lama, ridurre la distanza della lama piano di riscontro a zero, spegnere la macchina, sganciare dall'impianto elettrico il macchinario, lasciare l'area in pulizia e non effettuare pulizia non con aria compressa ma con spazzole e pennelli. Quindi vado a dare queste indicazioni sperando che qualcuno poi le segua e eviti di farsi del male. Se poi dovessero capitare qualche infortunio è chiaro che io a quel punto potrò andare a ripescare questi fascicoli informativi e vedere se effettivamente quel comportamento che ha dato luogo all'infortunio sarebbe stato evitato rispettando quello che era nel fascicolo informativo o meno. E questo è la parte di informazione che va a comporre il fascicolo informativo. Infine l'ultima parte delle schede sono i miglioramenti. Ecco i miglioramenti sono il vero banco di prova del DVR. L'abbiamo detto nella prima puntata la valutazione dei rischi è finalizzata al programma di miglioramento. Quindi questo è il vero cuore del nostro lavoro. In qualche modo l'output della valutazione dei rischi deve essere una serie di azioni volte a far crescere il livello di sicurezza all'interno della mia azienda. Quindi diventa molto importante andare a individuare queste misure. Nelle schede a catalogo troverete delle proposte di miglioramento però invito veramente a fare una grossa personalizzazione proprio qui. Perché chiaramente le schede sono delle schede a catalogo che vanno bene un po' per tutti ma qui davvero è il valore aggiunto della valutazione dei rischi di ognuno di noi come tecnico. Quindi io il ragionamento che devo fare è mi riprendo quelli che sono i rischi, vado a comprendere i rischi residui e da questo vado a determinare dei miglioramenti. Il miglioramento in accordo anche con quello che prevedono ad esempio la 45001 non è una mera un elenco puntato e numerato ma è un sistema volto all'attuazione di quelle misure. Quindi qui andrò a inserire la misura che intendo adottare, la potrò descrivere un po' nel dettaglio, mettere chi sarà il responsabile, indicare se abbiamo a disposizione un budget perché come avrete visto nella 45001 ad esempio nei video che abbiamo, l'ansenspeed training che abbiamo fatto proprio su quel tema, il tema non è solo definire cosa fare, chi lo fa e con quali risorse sia di personale che di soldi materialmente. La priorità entro quando va adottata, ipotizziamo che ne so, fine anno. Di per sé questa parte determina la fine di quello che è la valutazione rischi, perché la valutazione rischi finisce col programma di miglioramento. Però non ci bastava fare questo perché queste azioni vogliamo che vengano messe in campo. Quindi il sistema una volta inserita la scadenza informerà l'utente anche di queste scadenze, cioè del programma di miglioramento. A questo punto, quando avrò il remind che devo adottare questa cosa e l'avrò fatta, ipotizziamo, il 21 dicembre effettuate le indagini sulla potabilità dell'acqua. e magari il 8 gennaio ricevute i risultati. Quindi io sono andato a pianificare un'azione, assegnare le responsabilità, la scadenza e le risorse, l'ho attuata, ma soprattutto ho fatto la cosiddetta verifica di efficacia. A quel punto l'azione è risultata completata e, diciamo, ha smesso di fare la sua funzione. Chiaramente questo potrebbe determinare la necessità magari di aggiornare il rischio, la valutazione rischi, perché dopo aver adottato una serie di misure, posso volerne dare evidenza andando a modificare. Quindi andando a scrivere che sono state effettuate le indagini, le indagini hanno dato un risultato positivo per cui il rischio scende, magari ipotizzo io. Questo cosa significa? Che la valutazione dei rischi, pensata in questo modo, permette di dire faccio una valutazione iniziale. Da questa valutazione iniziale nasce un piano di miglioramento. Quel piano di miglioramento lo metto in atto. Determina un miglioramento delle condizioni, quindi vado ad aggiornare la mia valutazione dei rischi, la quale mi butterà fuori delle ulteriori misure di miglioramento, perché l'asticella pian pianino si alza, perché continuando ad adottare delle azioni di miglioramento, è chiaro che alcuni rischi che risultavano prima un po' trascurabili, perché coperti da rischi peggiori, una volta sistemati quelli peggiori, questi più piccolini possono invece diventare importanti. E allora cambio il focus in un'ottica veramente di crescita a piccoli passi ma costanti. Ed eccoci che abbiamo finito la nostra scheda di valutazione. Se ci è piaciuta, se quello che abbiamo fatto, che sia ex novo o che sia partendo da una scheda catalogo, le modifiche che abbiamo fatto le riteniamo essere ben fatte e funzionali per altri clienti, non ci rimane che salvarcela nel nostro catalogo personale. Quindi cliccando su crea modello, il sistema fotograferà la mia scheda e me la salverà a catalogo. In questo modo potrò sapere di poter attingere a questa scheda modificata, oppure proprio nuova, tutte le volte che voglio per tutti i miei clienti. Qualora io voglia mettere a disposizione di altri una scheda di valutazione, non mi rimane che cliccare su pubblicato nella community. A quel punto gli altri utenti potranno vederla e utilizzarla. Cosa succede però? Ipotizziamo di essere noi quegli utenti che vogliono utilizzare una scheda di qualcun altro. Quindi vado in scheda, ne cerco una realizzata da un altro utente, ad esempio vedete questo realizzato da Pasquero Luca. Clicco aggiungi. A questo punto il sistema mi dice Pasquero Luca ha dato la disponibilità a farti scaricare la sua scheda, però in cambio chiede il tuo cognome, nome, email e denominazione. Non chissà per cosa, non è che può chiedervi soldi, ormai la scheda l'avete scaricata, però può proporre delle sue attività, oppure possono crearsi delle belle sinergie derivanti proprio dall'essersi conosciuti e aver condiviso anche dei contenuti. Quindi da un lato per chi crea la scheda è un'occasione di visibilità, per chi la utilizza la possibilità magari di conoscere qualcuno che ha già una lunga esperienza in quel settore e che potrebbe anche aiutarvi nell'azienda che state trattando in questo momento. Immaginate ad esempio di prendere un'azienda nuova con delle attrezzature che non avevate mai incontrato, trovate la scheda catalogo, la utilizzate e potete contattare l'utente che l'aveva fatto dicendo guarda è la prima volta che mi capita un'azienda di questo tipo, vedo che tu hai fatto tante schede di quel settore, mi puoi dare una mano, magari come dire mi dai una mano su questa prima azienda in modo da imparare a fare una bella valutazione dei rischi anche in un settore che in questo caso conosco poco ma grazie alla community posso comunque gestire bene.